ragazzi ho fatto uno stock dei produttori di piante con dei prezzi che non vedete mai più vi faccio fare un giro abbiamo il codonante scontato del 20 da 25 euro costa 19 la locasi e l'autoberchian ne abbiamo solo una trentina di prezzi da 15 90 7 90 questo è un prezzaccio la monstera deliciosa guardate da 26 euro a 15 90 questa è veramente molto sviluppata anche quando abbiamo una dozzina di prezzi e basta abbiamo le calle vato 19 guardate come sono grandi da 16 90 a 13 50 sono un po di tutti i colori guardate che bella il lapiglio arancione la dracena lemon a 11 euro invece che a 15 90 questa è una pianta da interno facilissima e bellissima guardate che bel colore abbiamo la difembachia refletto guardate che bella questa da 25 euro perché nella realtà botanica costa 19 scontato del 20 anche questi abbiamo una ventina di pezzi poi questo veramente un affare una bazza spettacolare la locasi a pink dragon da 25 90 12 90 è bellissima sembra delle scaglie di drago col gambo rosa fenicottero veramente bella una ventina di pezzi poi dopo finita il clorofitum vittatum da 15 90 7 90 è già bello grande questa è una pianta che purifica l'aria degli interni è veramente bella in meridione sta anche fuori una ventina di pezzi la pilea peperomioides questa perché un pollice nero la pianta giusta va dimenticata come pianta da 4 90 2 90 taglia piccola ovviamente poi abbiamo il gelsomino d'appartamento questo profumatissimo questa è una pianta rampicante da interno costa da 12 90 8 90 sconto 40 per cento quando abbiamo una trentina di pezzi abbiamo la clivia questa è una pianta fiorita che sta fuori meridione le zone costiere da 16 euro 8 euro sconto 50 adesso fiorita dopo andando avanti c'è il caso che sfiorisca quando abbiamo una trentina di pezzi il filo dingo verrucosum che è un po' una rarità botanica di solito costa una sassata da 22 90 costa la metà 15 euro e rotti un vaso 14 quindi abbastanza grande questo per chi cerca rarità botaniche veramente un prezzaccio abbiamo la maranta leuconera perché la conosce è la pianta che si chiude la sera da 11 90 scontata il 50 per cento 5 40 solete provarla diciamo che è difficile ritrovare un prezzo così abbiamo la tradescanza quadricolor guardate che bella che fate che bella e fa dei fiori bellissimi scontata del 20 da 7 90 a 6 30 chi vuole provare l'erba miseria viene anche in vaso fuori specialmente in meridione zone costiere se non un'ottima pianta nei interni veramente facile scimmatoglissis chi lo conosce spesso lo scambiano per caladium è una pianta bellissima anche questa è una realtà botanica da 19 90 9 90 è una pianta che necessita di essere bagnata però veramente non lo ritroverete mai più un prezzo così singogno mojito questo da 15 90 a 9 50 anche questo è un prezzaccio considerate che costano tanto in inverno perché vanno scaldati tanto e poi in estate calano molti prezzi al massimo del loro splendore abbiamo la vanille fries che costa 10 90 invece che 14 pensi a da sole veramente bella adesso al suo massimo splendore sta fiorendo abbiamo la pole star che è fiorita questa rimane molto più compatta fa dei fiorellini molto bene anche questa è in offerta anche questa sta al sole in mezzo alle paniculate abbiamo anche l'annabelle va al sole anche lei fiorisce adesso costa sempre sui 10 euro in offerta anche lei sconto 30 tutti i frutti di bosco taglia grande ci hanno sui fruttini adesso ne mangio prima che i clienti me ne guzzino questi costano 10 euro una taglia già bella grande c'è maturazione precoce maturazione intermedia maturazione tra dire in modo che uno abbia tutta la stagione e sono rifiorenti quindi fanno più produzione ci abbiamo anche ribes e i mirtilli sempre in offerta e questa è l'ultima baza però tutte queste piante qua in offerta le trovate sul sito sassigarden.com spediamo in tutta italia oppure ci trovate fra parma e reggio e siamo sulla via miglia grazie a tutti Grazie a tutti.